Guardate le scarpe di questo ragazzo. Sono sporche? Non sono sporche, sono pulite. Guardate questi postini. Hanno freddo? Non hanno freddo, hanno caldo. Guardate questi barbieri. Sono magri? Non sono magri, sono grassi. Guardate queste scarpe. Sono piccole? Non sono piccole, sono grandi. Guardate questi negozi. Sono chiusi? Non sono chiusi, sono aperti. Guardate queste valigie. Sono pesanti? Non sono pesanti, sono leggere. Guardate la nonna e il nonno. Sono giovani? Non sono giovani, sono vecchi. Guardate questi cappelli. Sono nuovi? Non sono nuovi, sono vecchi. Guardate questi poliziotti. Sono bassi? Non sono bassi, sono alti. Guardate questi pantaloni. Sono lunghi? Non sono lunghi, sono corti.